non serve più anche ieri c'era sta cosa qua ah la baguette come sta prendendo giusto 그다음 gli uf le gambe guida e ne insignificant den Ah, guarda quante vendono lì, per i capellini, guarda, è pieno. Ah, quello che è il mercato lì. No, eravamo mandati credi. No, l'avevamo girato o eravamo... No. No. No, l'avevamo girato questo e poi l'avevamo girato. Una. Certo. No. guarda se vedi dei cambi ilo 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 Iva, ti senti molto molto bene? Io non avevo notato che è stato depresso Perché non mi sa che si spegne Guardi che non si vede più niente Guarda, c'è una roba lì che non si vede più strana Guarda, la terra lì, hai visto? Sì, sì, ma anche ieri è brava Questo voleva fare gli arrivi Ah, ok Oddio No, adesso No, sì, ma la prima volta non c'era E io volevo prendere Sono in 10 là Ti stai da qui, ti stai da qui Non c'è più, eh No, no, no Non c'è più Non c'è più Non c'è più Non c'è più E' un po' meno. 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 E' un po' meno.